Ciao a tutti amici della family, oggi mega weekend, si parte e vi portiamo sul lago di Garda al camping Lidl Azize ci aspetteranno anche degli altri equipaggi, quindi mi raccomando seguite tutto il video e vediamo cosa combiniamo io sono Herman di TheFamilyRollot e mi raccomando se non l'avete già fatto iscrivetevi al canale mettete un bel like e attivate la din din campanellina e buon divertimento! Grazie a tutti! Eccoci amici siamo arrivati al campeggio Lido di Lazize, quello lì è il nostro piazzatone come vedete, qui ci sono dei nostri amici che sono venuti a trovarci Ho lasciato il portafoglio sul tavolo Ho il portafoglio sul tavolo, oh cavolo, andiamo a recuperare il portafoglio facciamo una passeggiatina e andiamo a vedere dove sono i nostri figli perché sono già partiti per le mega piscine perché hanno detto che qua c'è un parco acquatico gigante abbiamo recuperato i bambini e adesso andiamo su di scivoli andiamo a vedere! andiamo a vedere! ragazzi questa sera aperitivo fluido ecco abbiamo occupato il cappeggio ciao a tutti amici oggi altra giornata abbiamo appena fatto colazione adesso andiamo a fare un bel tuffo nel lago speriamo non sia fredda andiamo e io ecco qua l'attrezzo indispensabile per l'uffiare il materassino mi sa che ci sta una persona qua ragazzi guardate che spettacolo lago pulitissimo guardate che meraviglia un bel tuffo ma secondo me l'acqua sarà abbastanza freddina dopo andiamo a testarla dai in acqua su dai su pensavo peggio pensavo peggio via tuffo tre no no tu ti ho fai fatto bene ragazzi siamo a pranzo e adesso vediamo perché qua facciamo tutto in famiglia o no Roberto? eh si eh tutto in famiglia tutto in famiglia guarda adesso vi faccio vedere attenti che vi faccio vedere Isabel come la vuole guardate qua la Giusy guardatela Giusy che piatto di pasta guardate che roba ci sta poco a poco poca a poco questo è un rancio militare ma giusto un etto a terzo giusto un etto un etto a terzo ecco qua oggi ospiti nella nostra piazzola qua tutti tavolo bambini tavolo adulti e tutti a mangiare tutti insieme bellissimo bellissimo eccoli qua dimmi Fede cucinare cucinare ovviamente ultima serata questo bellissimo campeggio sempre in compagnia e Fede deve dire qualcosa di qualcosa Fede perfetto e ovviamente non poteva mancare la grigliata guardate qua che professionista qua sta dando fuoco tutto qua c'è del professionismo questo è un bracciere dalla Harry Potter bene adesso facciamo le bracci e dopo iniziamo a buttar su costine salsicce salamelle scamorza spiedini di tutto e di più di tutto e di più la grande come vedete ragazzi qua stiamo grigliando pesantemente due postazioni vediamo da sfamare stasera a quanti siamo? siamo 13 persone 13 persone eccoci bene amici allora vabbè c'è luce vabbè mio figlio lo conoscete vabbè lasciamolo così ragazzi abbiamo finito la grigliata stiamo mangiando tutti insieme un ciao a tutti qua dal camping l'idola è tutto mi raccomando se non l'avete ancora già fatto iscriviti al canale mettete un bel like e attivate la campanellina ciao a tutti ciao ciao ciao